buongiorno davvero che tante volte gesù deve avere mangiato in maniera piuttosto scomoda con tutti gli occhi puntati su di lui come in questo episodio che oggi ci racconta luca nel capitolo 14 sui primi sei versetti gesù invitato a pranzo da un fariseo eppure circondato da uomini della legge e scribi che osservano pronti a giudicare a mettere alla prova forse anche a condannare in questa situazione gesù che non disdegna di stare a tavola con nessuno sebbene preferisca sempre i poveri i peccatori e pubblicani manifesta comunque una enorme libertà chissà quanto noi ci saremmo sentiti condizionati dallo sguardo degli altri quante volte diamo agli altri più potere di quello che pensiamo perché siamo in qualche modo compiacenti alle loro attese alle loro aspettative anziché cercare dentro di noi la verità ebbene gesù che sta pranzando il giorno di sabato nella casa di quest'uomo è messo alla prova proprio nella considerazione del cuore della legge di israele il sabato stesso che è il giorno che dio ha voluto per il riposo per ritrovare la relazione con lui per dare al cielo il posto che si merita su questa terra il sabato che però per i farisei per i scribi per i dottori della legge è diventato più importante dello scopo per il quale dio ce l'ha donato l'uomo infatti che al centro dell'attenzione del signore è messo da parte per favorire il formalismo le regole esteriori l'apparenza un atteggiamento ipocrita che colpisce nell'episodio raccontato da luca anche un uomo malato di idropisia gesù lo guarisce interpellando i presenti a esporsi su cosa pensino di questo gesto gesù lo guarisce anche per lasciare un simbolo grande perché l'idropisia è una malattia che gonfia gli arti della persona e rende quindi difficili se non impossibili i movimenti frena la capacità di lavoro ma manifesta una deformazione della dignità dell'uomo gesù guarisce quest'uomo perché vorrebbe guarire tutte le idropisia che stanno nel cuore di quei farisei che lo guardano e lo ascoltano idropisia dello spirito gonfio dell'egoismo dell'arroganza della superbia della voglia di mettere in fondo le cose esteriori al primo posto anziché curare quello che è il senso più intimo della legge di dio la promozione della vita l'attenzione alla persona la costruzione di una fraternità in cui nessuno sia escluso e in cui coloro che sono rallentati più deboli fragili impediti siano aiutati a trovare il proprio posto al passo di tutti gesù ci consegna questa verità e ci chiede di lasciarci anche noi guarire dalle nostre idropisia del cuore dal gonfiore della nostra superbia dall'arroganza di crederci autonomi e capaci di fare senza di lui mettiamoci al centro di questo banchetto non per metterci in mostra ma per essere guardati guariti dalla misericordia di gesù buona giornata